salve da agropalati quello che vedete sono le nostre olive nere preparate arreganate o arreganate vedete sono delle bellissime olive delle macchie delle coserie di tipo biologico quelle più nere possono state praticamente messe ad asciugare poi sotto sale per 45 giorni poi dentro questo panaro vedete vicino al nostro caminetto non proprio vicino vicino ma nei paraggi per asciugarle almeno per qualche ora al giorno poi anche col freddo senza umidità si possono asciugare durante la notte ecco vedete si possono poi dopo dieci giorni più o meno si possono aggiungere tutti i nostri diciamo questi profumi vale a dire alloro specialmente l'origano che è alla base di questa preparazione e ancora scaglia di peperoncino scaglia di peperoni essiccato ancora un bel po di aglio si mette anche diciamo in questa quantità meno mezzo litro di olio extravergine d'oliva si mescola tutto ecco si lascia almeno per altre 24 ore a prendere tutti i sapori poi si possono mettere o in vasetti ma io preferisco nelle buste in sottovuoto e si conservano benissimo anche per due anni l'oliva reganata si possono utilizzare sulla pizza per la pasta nei secondi mangiare così con un pezzo di pane vi posso assicurare che sono una vera delizia calabrese